Fabio Becchi, Presidente Provinciale Shape Savona, benvenuto, con lui vogliamo parlare un po' di locazioni brevi e dati sul turismo. Tanto è un argomento molto importante che in questo momento è all'ordine del giorno perché c'è stato uno sviluppo dopo il Covid di locazioni brevi che ha inciso in termini importanti di percentuali. Noi abbiamo fatto un'indagine in rapporto al 2022 che abbiamo avuto un più 5% di locazioni brevi e ci sono stati degli aumenti di canone del più 4%. Siamo ottimisti, molto ottimisti per il 2024 e abbiamo stimato con il nostro centro studi Fiaipe di Roma che a livello nazionale sarà un più 8%, perciò secondo me verrà confermato questi dati positivi sulla provincia di Savona. Numero importanti ma è vero che gli affitti brevi costituiscono una sorta di concorrenza mi passi il termine sleale nei confronti degli alberghi? È una domanda che mi fanno spesso nelle riunioni dove ci troviamo nel Comitato Turismo con il Presidente delle altre associazioni. Io ritengo che le locazioni brevi sono un mercato parallelo e non è una concorrenza perché se lei guarda bene anche una pubblicità che sta uscendo adesso sui canali televisivi chi si indirizza verso l'immobiliare delle locazioni brevi ha delle esigenze diverse come il turismo dell'albergo, per esempio questa pubblicità dice se vuoi prenditi una casa che non vai a dormire lo stesso orario dei bambini e questo fa riflettere molto che c'è un mercato parallelo delle locazioni brevi perciò non è concorrenziale agli alberghi. Poi a me risulta che gli albergatori, chi è investito, chi ha fatto veramente degli investimenti importanti nei servizi, sta lavorando ugualmente. Esiste un codice CITRA obbligatorio ma ci sono timori che venga usato correttamente? In altre parole paura di abusivismo? Sì, mette il coltello sulla piaga. È importante che ci siano dei controlli da parte delle polizie locali di questi annunci di locazioni brevi. Tutti devono avere il codice di identificazione che diventerà poi CING a livello nazionale col decreto Sant'Anché. Fabio Becchi, grazie. Grazie a voi.